Nel 2024 esiste un modo di comunicare e di parlare che non può essere rimandato. Spero e prego tutti i giorni che in questi mesi di Daniele De Rossi in panchina possano portare gli altri allenatori ad affrontare i pre-partita, i durante la partita e i post-partita come fa De Rossi, che non ha paura di dire in una piazza che odia De Zerbi che lui si ispira a tante cose di Roberto De Zerbi prima della partita contro il Brighton. Poi lo mazzola, non è che si fa il problema che siccome è amico suo non lo mazzola. Lo mazzola, gli fa 4-0, quindi figurati, però ne parla in un certo modo. Nel post-partita di una partita come quella di ieri, dove si sarebbe a dire tante cose sull'arbitraggio di massa, sia sul gol della Fiorentina che con lo stesso metro o annulli il gol della Fiorentina o non dà il rigore di Paredes, no? De Rossi non parla dell'arbitro, va in conferenza e dice ho sbagliato io il primo tempo, ho sbagliato io a mettere la formazione, volevo fare determinate cose, la squadra ha un mese a tre e non lo fa. E non si lamenta e anzi si prende le responsabilità. E' sempre puro, ma anche in dettagli in cui ha parlato di suo padre dopo la partita contro il Brighton, è sempre onesto e propositivo. Secondo me a un certo punto smetterà perché si renderà conto che il contorno non è onesto, ma invece io spero che si renda conto il contorno di come si parla al mondo e che si inizi a parlare in questa maniera anziché dire sempre è colpa dell'arbitro, è colpa del campo, è colpa della lega, è colpa di quello, è colpa di quell'altro e non prendersi mai una responsabilità. E poi De Rossi dice io non festeggio il pareggio, non sono abituato a festeggiare i pareggi. Mi sembra una dimostrazione di mentalità straordinaria che arriva completamente in maniera casuale nella stessa giornata, a poche ore di distanza, da Massimiliano Allegri che dice abbiamo fatto un buon punto, abbiamo allontanato il Bologna di un punto. l'allenatore della Juventus. Io se fossi diventato la Juventus impazzirei a sentire una roba del genere, impazzirei perché la Juventus non deve proprio guardarlo il Bologna, non dovrebbe essere in competizione mai col Bologna perché il Bologna parte per fare decimo e la Juve parte per fare prima. Poi certo la Juve può fare seconda, terza, va bene, ma il Bologna può fare anche quarto se da decimo passa a quarto. Quindi perché Tiago Motta fa un miracolo. Quindi se te lotti col Bologna o pensi a Bologna c'è sicuramente un problema proprio di impalcatura mentale e di narrazione.